Che cosa? Sei preoccupato? Che bella telecomunica! Che neanche preparato è arrivata! Non solo mi arriva alle 9.20 a casa, neanche preparato! Lo scandalo, scandalo! Non è che stava guardando Rintintin? Sì, è Rintintin a due! Il ritorno di Rintintin è una cosa più buona! Ma tu corri con gli occhiali da solo? No, li tolgo! Adesso un gruppo compasso! Un secondo che adesso il suo maestà Rambo... Quelli forti, eccoli qua quelli forti! Com'era Omar? Com'era la presentazione dell'allenamento? Giambadici! Giambadici! Ma c'è asfalto? No! Rambo ti gli risponde! No! Qualche metodo! Tutti stiambrati! Dunque poi... Siamo ancora sull'asfalto! Vecchi lami triotto! Siamo ancora sull'asfalto! Porti quello che do al giro! Aiaiaiaia! Niente, è troppo acqua! Eh! Impraticabile! Fai ribaltare le scarpe da corsa! Si battono bene, se no! Ma come funziona? non rimbaltano no 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 se che lo riprendo sono molto attivo eh io ero ancora io ero io ero io ero io ero c'è un dopo ciao 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 ok 13 oh andare al caso che si io ero 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 ero